Siamo qui con Bellicchi, secondo te la sconfitta è causata dalla prestazione, dall'arbitraggio o da entrambe? Ma io credo che la mia squadra ha dato tutto, sono orgoglioso dei miei compagni e mi dispiace solo che contro i primi in classifica in due partite abbiamo preso quattro rigori contro. Sarà sfortuna, sarà arbitraggio, non lo so, lascio ai telespettatori la risposta, però sono orgoglioso della mia squadra. Ecco, cosa non ti è piaciuto invece della tua squadra? Ma credo che mi è piaciuto tutto, siamo entrati forse leggermente scarichi o forse troppo carichi, potevamo fare qualcosa in più però va bene così. Nonostante la sconfitta di oggi comunque avete fatto un cammino fino a Doia? Sì, assolutamente, ti ripeto, vi ripeto, sono orgoglioso della mia squadra e spero che ci toglieremo delle emozioni, grazie.